L'ASP di Cosenza non poteva revocare alla cooperativa La Cascina i servizi di ristorazione delle aziende territoriali e ospedaliere. La sentenza appena pronunciata dal Consiglio di Stato parla chiaro. La Cascina, coinvolta nell'inchiesta di Mafia Capitale, era stata interdetta per mafia dal prefetto di Roma, Franco Gabrielli. La gestione della cooperativa era stata quindi affidata a due amministratori giudiziari, così da permettere alla società di garantire lo stipendio ai suoi 700 dipendenti. Tuttavia, dopo la burrasca, la Cascina si era ritrovata isolata. Molti enti le revocavano gli appalti e ne inibivano la partecipazione alle gare. È il caso appunto dell'ASP di Cosenza, ma secondo i giudici del Consiglio di Stato, il breve periodo in cui il gruppo è stato interdetto non può essere motivo di esclusione dagli appalti. Una sentenza che crea un significativo precedente rispetto a quanto sta accadendo è la società Tecnis, la cui interdizione per mafia avrebbe potuto bloccare i lavori per la costruzione degli ospedali della Piana e della Sibaritide.